E' stato varato il nuovo piano ospedaliero della Puglia con 1.255 posti letto in più, raddoppiando le terapie intensive. E' stata una possibilità concessa dal Ministero utilizzando le leggi anti-Covid che metterà insieme la salute di tutti i giorni con la resistenza alla seconda ondata di Covid che arriverà ad ottobre. Il virus sta girando per il mondo ed è pronto a tornare con tutta la sua forza, quindi mascherine, distanziamento, al mare, in discoteca, al bar, in famiglia, nelle feste familiari, è fondamentale, raccomanda il Presidente della Regione, Emiliano. La rete ospedaliera è stata potenziata con 1.255 nuovi posti letto per un totale di 13.725 posti letto. In Puglia si passerà da 304 posti letto di terapia intensiva a 580, raddoppiando la capacità con 276 nuovi posti di rianimazione, previsti ben 285 posti letto di subintensiva. Saranno rafforzati enormemente tutti gli ospedali di base, assicurano dalla Regione Puglia. Il piano si completa con la riorganizzazione dei percorsi di emergenza. Urgenza!